allora prima impressione a caldo è veramente comoda è liscia è veramente liscia nel senso che praticamente non devi dare più di tanto gas ed è pulita rispetto alla mia 1100 50 mi trovo davvero comodo gran moto, davvero gran moto che cambio bella presa non 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 il motore madonna il motore spende molto sento molto alta il motore 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 un ritmo che si può essere Wow, ma tiri come una bestia Gran motore, davvero gran motore Gran motore, davvero gran motore Gran motore, davvero gran motore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.